Musica Giovedì 14 novembre, buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Fano TV sul canale 17 Sono le 7 del mattino, buongiorno, ben ritrovati Dunque partiamo con il santo del giorno, poi le previsioni del tempo I giornali che oggi abbiamo già sul nostro touchscreen pronti per essere sfogliati Subito il santo, vediamolo Oggi i santi Nicola Tavelic, Deodato da Ruticino, Stefano da Cuneo e Pietro da Narbona Il sole sotto alle 7, adesso praticamente Il sole tramonterà invece questa sera alle 16.45 Il tempo subito sul sito della Protezione Civile delle Marche Che per oggi prevede un cielo parzialmente nuvoloso Con alternanza di schierite e annuvolamenti più intensi Con maggiore copertura nelle zone montane Avremo anche deboli precipitazioni Brevi piovaschi in particolare al sud della regione e in montagna Le temperature sono in diminuzione mentre aumenteranno quelle massime I venti ancora soffieranno lungo la costa in serata fino a vento moderato Il mare sarà poco mosso mentre mosso in serata Attenzione alle foschie e ai locali banchi di nebbia Ancora tempo brutto domani dalla fine della mattinata di venerdì Precipitazioni che saranno diffuse anche ai caratteri di rovescio Nel settore centro-settentrionale ma in estensione anche su quello meridionale Continuerà a soffiare vento forte lungo la costa E venti di tempesta in montagna Il mare sarà molto mosso Attenzione ancora possibilità Guardate ve l'avevamo detto anche l'altro giorno Ve l'avevamo detto in occasione prima della mareggiata Di cui parleremo anche tra poco dai giornali Attenzione alle possibili mareggiate lungo la costa In particolare quella centro-meridionale Ancora per quanto riguarda la giornata di sabato Sabato come vedete dalla grafica ancora precipitazioni diffuse Rovesci anche e soprattutto nel pomeriggio I venti sofferranno di brezza tesa da sud Nelle zone interne e sud orientali lungo la costa Il mare sarà mosso Mentre la giornata di domenica sarà una giornata inizialmente piovosa Ma con probabili schiarite domenica pomeriggio L'inizio della settimana ancora però sarà caratterizzato da deboli precipitazioni Come potrete immaginare oggi i giornali aprono e titolano E danno molto spazio alla forte mareggiata che c'è stata l'altra notte Che ha causato tanti danni lungo tutto il litorale marchigiano Cominciamo dal resto del canino Questa è l'edizione di Pesaro Titola così Lì la spiaggia non c'è più mareggiata devastante lungo tutta la costa Danni e rabbia Il commento di Alessandro Mazzanti I soldi ci sono ma il mare non aspetta Ci sono i soldi 750 mila euro in due stralci tra comune di Pesaro e regione Per rialzare le scogliere che nel frattempo si erano insabbiate sulla costa pesarese 150 mila euro ogni anno per il ripascimento della sabbia Oltre 4 milioni per il tratto fanesi I soldi quindi ci sono ma il mare per ora non se ne accorge E possiamo aggiungere il mare fa il suo mestiere All'ultima spiaggia siamo qui sul Carlino di Ancona Onde alte 2 metri lungo mare sommerso Marina di Monte Marciano in ginocchio Dal Macerata all'ultima spiaggia Porto Recanati devastata da una mareggiata Il Corriere Adriatico Mareggiata record Devasta il litorale Colpite le spiagge di Fano e Marotta Divorati metri di arenile Detriti sul lungomare Il mare devasta tutto Danni da Gimara a Ponte Sasso L'acqua è arrivata in diversi casi Fino a uffici e depositi per attrezzi L'assessore fanesi del comune di Fano dice Evento eccezionale Non è questione di scogliere Perché sono state scavalcate Gli operatori in coro però Chiedono ripascimenti e potenziamento delle barriere Effetti che sono anche parte di questo clima che cambia Spiaggia di Sassogna sventrata La politica Ser Filippi della Lega dice Indecente Lega che ha annunciato un'interrogazione urgente Per il consiglio di stasera Le onde divorano metri di spiaggia Detriti e fango finiti sul lungomare Colpiti litorale del centro e nord La protesta dei concessionari Siamo a Marotta Inadeguate Le barriere soffolte I tratti più colpiti a Marotta Vanno dall'area antistante La vecchia sede della guardia costiera Fino ai bagni solindo Il mare ha sfondato Praticamente le paratie in legno Che gli stabilimenti avevano posizionato A protezione della strada Secondo Donati Il mancato rafforzamento delle scogliere Ha fatto da acceleratore Disastri dal Po alle Marche Il Carlino Spiagge e strade distrutte Straripono i porti nel Ferrarese Rose e le dune di Sabbia Cervia e Milano Marittima D'Ancona Fermo si invocano le scogliere Guardate com'è ridotta Marina di Monte Marciano Nell'Anconetano Il mare ha inghiottito gli chalet Danneggiato la strada e le case All'altezza di Monte Marciano Onde alte fino a due metri L'acqua arrivata fino alla strada Ora non è che uno vuole aggiungere Visto che già gli operatori Sono abbastanza arrabbiati Però va anche detto che Come ho già anticipato Tra le righe qualcuno forse l'avrà sentito Il mare fa il suo mestiere Gli uomini dovrebbero fare altrettanto Quindi non possiamo lamentarci Se poi gli edifici Gli chalet o quant'altro Vanno sott'acqua Gli chalet non dovrebbero stare In riva al mare O perlomeno se ci stanno Devono sapere che il mare Appunto fa il suo mestiere E quando si arrabbia Poi si arrabbia Poi la questione delle scogliere O se è possibile fare qualcosa Per difenderli Questo è un altro discorso L'acqua fin sulla ciclabile Ma le dune hanno retto Situazioni più critiche Sotto monte a Pesero L'unico punto dove le barriere Hanno ceduto Bagni e margherite Due palme Sono gli unici due colpiti La battigia è scomparsa In molti tratti Questa è la fotografia Che fa capire innanzitutto La barriera Eccola qua Questa barriera provvidenziale Qui ci sono due ragazze Che fanno anche capire Esattamente un po' Il dislivello Che c'è No? In questa posa Mentre sotto Si capisce benissimo Gli ombrelloni Tra le onde Che fanno Il loro effetto Una fotografia Comunque spettacolare Dove si può vedere La forza del mare Che è arrivato Veramente lungo Ed era Soprattutto Come diceva anche L'assessore Fanesi ieri Era molto alto Cioè L'altezza del mare Era impressionante Tra l'altro C'è una fotografia Che nessuno ha pubblicato Ce l'abbiamo solo noi Ve la faremo vedere Magari postandola Nei nostri social Del porto Marino dei Cesari Dove l'acqua Veramente arrivava A filo Con 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 la terra Allora Questa invece È Porto Recanati Guardate Qui Anche qui Come dicevo poco fa Insomma Un Un ristorante Dove quest'uomo Questo Questo imprenditore Che si chiama Simone Saracini Titolare di questo ristorante Le voci del mare A scossicci È un ristorante devastato Devastato Durante la notte Tra martedì e mercoledì Da questa mareggiata Straordinaria Avevamo sistemato La struttura Appena un anno fa Non so Se riepiremo Guardate In che In quali condizioni È Questo ristorante In riva al mare Scafi Travolti come birilli La rabbia dei bagnini Dall'Arzilla Alla Sassogna Siamo di nuovo a Fano Cancellati Fino a 20 metri Di spiaggia Eroso Oltre mezzo metro Di spessore Devastate alcuni Bar Sull'arenile Intervenire subito Prima che sia tardi Con le scogliere Se no Sono guai grossi Sotto Da quattro anni Ci prendono in giro Il caso di passare Alle denunce Lo sfogo dei bagnini Di Sassonia A Fano Dove da tempo I concessionari Chiedono il completamento Delle scogliere Emerse Bagni Gabriele Dice Il mio campetto Era seminuovo Ora dovrò rifarlo Nuovo E forse Mi seccano le palme Ci vogliono le scogliere Aggiunge Matteo Renzi Dei Bagni Carlo Che si rivolge Così al comune E alla regione Chiusa la parentesi Del maltempo Apriamo le altre pagine Qui si parla Dell'atleta Di Fano L'atleta vittorioso Realizzata Realizzato Dallo scultore greco Lisippo Ebbene La diatriba È sempre la stessa Questa Paura Lo spauracchio Che Urbino Pesaro Si prendano Poi la paternità Magari Di riportare L'atleta Di Fano Da un'altra parte E quindi C'è questa Polemica Politica Soprattutto Anche in casa Del Partito Democratico Che sembra un po' Addormentato In questi ultimi In questi ultimi Tempi O per lo meno Su questa vicenda Pare si sia addormentato Davvero Ed ecco allora Che cosa succede Succede che Il segretario Del PD fanese Alberto Bacchiocchi Sprona i suoi Suona la sveglia E dice Bisogna cambiare passo Soprattutto dopo Che si sono accorti Che a Urbino È nato Un nuovo comitato Per il Lisippo Che sta facendo E ha messo già in campo Diverse Diverse Iniziative Tra cui anche Una raccolta fondi Che servirà Serviranno tra i 200 E 300 mila euro Con la raccolta fondi Via internet Per finanziare Un filmato Un film Un film Sull'Lisippo Sull'atleta Di Fano Ed è un film Che Potrebbe Nel caso in cui Riusciranno a raccogliere Questi soldi Che racconterà Tutta la vicenda Di questa scultura L'atleta vittorioso Che purtroppo Già Nel resto Nel resto Nella regione Fuori Fano È quasi Sconosciuto Però Dice Il regista Che dovrà Realizzare questa cosa Non c'è dubbio Che sia Fano La sede naturale Dell'opera Ma serve L'unità Per raggiungere Questo obiettivo Intanto Da parte Dell'amministrazione Fanese Arriva la conferma Di aver preso Contatti Con il nuovo Ministro Dario Franceschini Con cui Condividere Iniziative Progetti Perché questa È una partita Che si risolve Con silenzio E cautela Ma Se il Carlino E per la collega Marchetti Franceschini Pare Insomma In qualche modo Avesse risposto A una telefonata Per lo meno Dell'amministrazione Fanese Per il Corriere Adriatico Invece Franceschini Non risponde Si prepara Così un grande Convegno A Roma L'iniziativa Del Pio Sodalizio Dei Piceni C'è quest'impasse Dopo la decise Azione Contro Il Ghetti Dell'ex Ministro Bonisoli Però Sta di fatto Che insomma Da una parte C'è chi Invoca Il Silenzio Il lavoro Sotto traccia Dall'altra parte Invece C'è chi Crea Comitati E suona La Gran Cassa Per richiamare E tenere Sempre alta L'attenzione Su questo Importante Scultura Opera Che però Al momento Resta Negli Stati Uniti D'America Montagna Qui siamo Sulla pagina Di Fano Del Corriere Adriatico Si parla Della montagna Di rifiuti Dimenticata A Carrara Di Fano Dove Secondo Il Parroco Don Pier Giorgio Giorgini Si muore Di più Torna All'attacco Il parroco Sulle promesse Disattese E sui rischi Dell'ex Cava Che era Di proprietà Dei Solazzi Don Giorgini Ha rilevato Un aumento Di patologie Tumorali Nella zona Circostante La Cava Questo è stato Sempre dimensionato Dagli organi Inquirenti Affermando Che si tratta Di Si trattava Di episodi Nella norma Io faccio i funerali Dice il parroco E so come vanno Queste Queste cose Nuova sede Della Conf Commercio Impegno Rilanciato Martedì C'è l'inaugurazione Di questa nuova sede In via San Francesco A Fano La sede Della Conf Commercio Sono i locali Di via San Francesco 41 Infatti ad ospitare Questa nuova sede Fanese Di questa Associazione La presidente Barre Barra Marcolini Insieme ai vice Presidenti Martina Carloni E Luciano Cecchini Insieme ai componenti Del consiglio direttivo Della sessione di Fano Ha lanciato Questo invito Questo annuncio Di Essere lì Quest'inaugurazione Martedì prossimo 19 novembre Alle ore 19 Famiglia nuova Raddoppia L'accoglienza La casa di riposo Sempre a Fano Inaugura sabato prossimo La struttura di fronte Con 20 posti A disposizione Altrettanti Per nuovi lavoratori Risparmiamo Dice Deborah De Angelis Alle crescenti richieste Rispondiamo Scusate Alle crescenti richieste Per anziani Parzialmente Autosufficienti Commercianti delusi Dal Natale Niente luci Soldi In beneficenza Allora C'è una parte Di Fano Che è in Come dire In contrasto Con l'attuale Maggioranza E quindi Ieri C'è stato Ieri pomeriggio In Comune C'è stata Questa Assemblea Dei commercianti Alla quale Però Non tutti Hanno partecipato Chi c'era A questa Assemblea C'era Chiaramente L'assessore Etienne Lucarelli La consigliere Di maggioranza Barbara Brunori Però Non c'era Ad esempio Nessun commerciante Di via Garibaldi Lato Mare Di via Nolfi Oppure di piazza Marconi Che Come è successo L'anno scorso Anche quest'anno Hanno deciso Di non partecipare Alle spese natalizie In segno di protesta Nei confronti Di un'amministrazione Che a dir loro Gli ha sempre Riservato Poca attenzione A Cartoceto Invece Conto alla rovescia Per questo Importante Appuntamento Che chiude La mostra Mercato Dell'Olio E dell'Oliva La 43esima edizione Cartoceto Dopo Festival Che c'entra Nino Frassica C'entra perché Sabato Nino Frassica Sarà Al Gran Gala del Gusto A Cartoceto Che chiude pronto Questo appuntamento Che ha avuto Un Ottimo successo La pagina di Fatto del Carlino Ecco il cimitero Degli introvabili Regna il caos Nel campo Indecomposti I parenti vagano Alla ricerca Del proprio caro Le foto E le lapidi Sono disseminate A terra Mancano i dialetti Lastricati Quando piove Praticamente Si cammina Sul fango Niente reddito E qui siamo alla cronaca Colpa tua Botte da orbi Alla ex moglie Un 62enne Accecato Dall'ira Quando si è accorto Che il sussidio Di cittadinanza Gli è saltato Perché la ex Non l'ha mantenuto Nel nucleo familiare Dunque minacce Violenze Sessuali E botte E così Il PM Silvia Cecchi Che vedete Nella fotografia Con i faldoni in mano Con i fasciculi in mano Insomma Ha chiesto Che sia L'allontanamento Di quest'uomo A Pesaro Si piange Per la morte Di questa donna Scomparsa Era affetta Da sclerosi multipla Sempre accompagnata Dalla sua cagnolina Lilla Ora l'animale Cerca una casa Per evitare di finire Nel canile E lei si chiamava Invece Patrizia Distrusse la cella E ferì una guardia La folle notte Dell'imam spacciatore Si è aperto a Pesaro Il processo a carico Di un tunisino Un tunisino che scappò Dal carcere di opera Siamo a Milano E fu inseguito Praticamente Per tutta Italia Ladri smurano La cassaforte Rubano anche I buoni postali Scalano la grondaia Fino al secondo piano La casa La casa a soccuadro Spariti ori Per oltre 15 mila euro Un colpo importante Che è stato messo a segno In Viale Cesare Battisti Martedì A Pesaro Nell'abituazione Di due coniugi Sessantenni E i ladri Si sarebbero Arrampicati Tramite la grondaia Esterna Fino al secondo piano Della palazzina Nella zona del mare Dopo aver tagliato Il vetro Della finestra Del terrazzino Sono entrati Praticamente in casa E hanno fatto razzia Di quello che c'era All'interno A Pesaro Purtroppo Si dice addio Alla ruota panoramica No È arrivato il no Della sovrintendenza È stata bocciata L'ipotesi Dell'allestimento In piazzale Matteotti È pericoloso Invasivo È troppo impattante Dunque L'impianto Avrebbe dovuto Accendere le luci In questi giorni Ma per ora Pare insomma Che ci sia Non ci sia Una soluzione Alternativa E quindi Pesaro Dopo la torre Dovrà Dovrà dire Per quest'anno Perlomeno Addio alla ruota Panoramica Tanto sponsorizzata Da Matteo Ricci Proprio nei giorni In cui si stava Smontando la torre La domus romana Si trova al di sotto Dell'area interessata Dal piede di appoggio Della grande struttura Dunque La sovrintendenza Ha detto E ha detto Assolutamente di no Ma comunque Pesaro Si sta preparando Tutto per lo show Di luce florescente Che accenderà Il Natale Nel cuore Di Piazza del Popolo Nel cuore della città Uno show di luce Farà pulsare L'atmosfera Prima anticipazione Sulla spettacolare Spettacolare regia Di Pesaro nel cuore Che è il titolo Che dà Il titolo Dell'iniziativa Pesarese Dedicata al Natale Trasloco della questura Rinviato Una beffa Non sapevamo nulla Dura reazione Dei commercianti Coinvolti nella partita I PASO Subito Un tavolo di confronto Fa una visita Ma il conto arriva Dopo sette anni È il racconto Di questa disavventura Sanitaria Di Stefano Poderi Che dice L'avevo regolarmente Pagata Questa visita E per fortuna Avevo conservato Ancora La ricevuta Tant'è che poi Ha portato Come vedete Nella fotografia Tutti i documenti E com'è finita L'ufficio recupero crediti Dell'azienda ospedaliera Marche Nord Si è scusato E dice Qui Lui dice però Insomma Davvero Non si può mai abbassare La guardia E in effetti È così Ma un po' per tutto Bisogna sempre mantenere Tutto E non buttare via nulla Inchiesta Palloni gonfiati Siamo a Urbino 17 rinvii A giudizio Tra i nomi Figura anche il sindaco Maurizio Gambini 17 Dei 19 indagati Nell'ambito dell'inchiesta Paloni gonfiati bis Tra cui il sindaco Di Urbino Gambini Sono stati rinviati A giudizio L'indagine condotta Dalla guardia di finanza Riguardava delle sponsorizzazioni A favore della squadra di calcio Che all'epoca si chiamava Pieve di Cagna Poi diventata Urbino Pieve Che sarebbero state gonfiate E in parte restituite In maniera illecita Agli imprenditori Per far ottenere A loro Dei vantaggi Fiscali Sotto il premio Antonio Bori Alle migliori tesi di laurea Riconoscimenti ai migliori lavori In tema della salute Sicurezza dei lavoratori A Tania Tarini E Gloria Guidomei Sempre dai giornali La pagina di Urbino Del Corriere I docenti uniti in difesa dell'ITIS Approvato all'unanimità Il documento congiunto Di collegio e consiglio di istituto Da recapitare alla regione L'indirizzo voluto dal Benelli È in conflitto con il nostro Di biotecnologie Cosa è cambiato dall'anno scorso Il vice sindaco Qui siamo a Fermignano Guardate questa fotografia Che è anche una fotografia Se vogliamo un po' artistica Un po' di artistico Nel senso che Il vice sindaco Che vedete qua Nella fotografia Con la barba Vaccina l'intera giunta Di Fermignano Bettoni che infatti È anche medico E dice lui Diamo l'esempio Come città della prevenzione Praticamente Il vice sindaco Ha In questa fotografia Vaccina Sta vaccinando Con il vaccino anti-influenzale Il sindaco di Fermignano Quindi vice e sindaco Che poi probabilmente Si sono vaccinati Come tutto il resto della giunta Vallefoglia Il Natale che non ti aspetti Lungo 45 giorni Coinvolti 18 borghi Pronti mille volontari Il brand Cioè il marchio Metterà in rete Buona parte della provincia Dal 23 novembre al 6 gennaio Si lavora Ad una card Praticamente unica Studenti A lezioni di alluminio E differenziata La Cial Ha coinvolto A Montellabbate Alunni Delle classi seconde Di una scuola media Taglio dei boschi E colture Causa degli invasi interrati La Lupus in fabula Contesta la mancanza Di una politica coerente Terreni Dilavati Per l'incuria La solita Storia Della pulizia Mai fatta Per gli alti oneri E l'incertezza Su chi debba pagarli E quindi Milioni buttati Sugli sci Calcinacci Giù dalla facciata Di San Francesco A Fossombrone Nuovo crollo Di materiale Per la pioggia Il sindaco dice Ora faremo Un'altra ordinanza Chiudiamo Con la pagina Della Valle del Cesano Dove il sindaco Legittima Il sindaco Davide Dellonti Di San Lorenzo In campo Legittima Il nuovo comitato Perché dice Mira la tutela Del territorio Si parla anche qui Anche oggi Dell'impianto Che dovrà sorgere Forse A questo punto A San Lorenzo Impianto Per i polli Voluto Dall'azienda Fileni Devono essere esaminate Le osservazioni Del comune Di San Lorenzo I cittadini attivi Chiedono valutazioni Fondate su studi Indipendenti Non su dati Forniti Dall'azienda E con questo Dicevo Chiudiamo qui La nostra Rassegna stampa Grazie Per essere stati con noi Vi auguro una buona giornata Vi ricordo che Il numero di telefono Per le vostre segnalazioni Anche con Whatsapp È quello che vedete In questo momento In sovraimpressione Ma vi ricordo anche Di scaricare La nostra app gratuita Sui due store Di Apple E di Android E vi ricordo anche Che domenica Alle 20.45 Già ci sono i promo Trasmetteremo Il documentario Sulla seconda guerra mondiale A Fano Grazie per essere stati con noi E buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti